Mi capita spesso quando ricevo un incarico di vendita di un immobile che dopo pochi giorni mi telefona un proprietario e mi dice che è stato contattato da un altro agente immobiliare per informarlo che lui ha già il cliente pronto a comprare. Ciao sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista da circa 20 anni che svolge la propria attività in tutta Roma e provincia. Come dicevo mi capita spesso in occasione del conferimento di un incarico di vendita di un immobile che dopo un po' di giorni, alcune settimane io venga contattato dal proprietario che tutto è citato per la lieta notizia, mi informa di essere stato contattato da un altro agente immobiliare di altra agenzia che senza aver visto l'immobile magicamente ha un cliente pronto a comprare quell'immobile per il quale io ho ricevuto l'incarico. Ecco questa magia come potete immaginare è dovuta al fatto che come tutti sanno gli agenti immobiliari hanno nelle agenzie immobiliari dei congelatori nei quali tengono congelati delle persone pronte a comprare gli appartamenti che arrivano sul mercato. Ovviamente sto scherzando, è una prassi purtroppo abbastanza antipatica ma molto diffusa, quella di alcuni agenti immobiliari che hanno difficoltà a prendere incariche di vendita e quindi si ritrovano a vedere in pubblicità l'immobile di altre agenzie e andare a contattare subito il proprietario informandolo che loro hanno pronto un presumibile cliente con l'intenzione già di comprare. È una tecnica ormai effettivamente molto vecchia e in parte anche stantia che può soltanto attecchire presso quei proprietari che non hanno molta dimestichezza con l'andamento del mercato immobiliare e che ovviamente si illudono di aver immediatamente trovato un potenziale acquirente. Sono invece delle tecniche di acquisizione molto molto poco professionali perché quando mi capita cerco di far ragionare il proprietario sui seguenti aspetti. Innanzitutto cosa vuol dire avere un cliente pronto a comprare? Non può essere una persona che ha semplicemente detto l'agente immobiliare cerco un appartamento di salone e due camere in quella determinata zona con quel tipo di piano, non so, dal terzo piano in su e se io sto vendendo un immobile quel tipo magari già si pensa che sia adatto a quel determinato acquirente perché magari quell'acquirente in realtà vuole anche l'appartamento con il terrazzo e quell'appartamento non ha il terrazzo oppure quell'appartamento lo vuole ristrutturato e quell'appartamento che sto vendendo invece è totalmente da ristrutturare. Inoltre per dire ho pronto il cliente per comprare significa che il cliente ha l'assegno in mano, ha già staccato un assegno, ha formulato una proposta formale e si è vincolato a comprare quel determinato immobile. Ancora significa che si è fatto una prequalifica dell'acquirente, si è verificato se l'acquirente possa o meno prendere un finanziamento bancario qualora avesse comunicato alla gente di voler comprare tramite mutuo. Ecco, come immaginate non è semplice districarsi nella giungla del mercato immobiliare e quindi consiglio ai proprietari che volessero magari far da soli o addirittura ai proprietari che magari si sono pronti ad affidarsi a un'agenzia immobiliaria di scegliere un'agenzia immobiliare che sia in grado di soddisfare la loro esigenza di selezione del cliente corretto pronto veramente a comprare e così invitandoli a fare un po' di attenzione e di fidare da quelle proposte che possano venire al telefono da pseudo agenti immobiliari che dicano ho già il cliente pronto. Non hanno assolutamente un cliente pronto, è soltanto un bieco metodo per cercare di entrare dentro l'immobile e poterlo vedere e cercare di prendere un nuovo incarico pur sapendo che già l'incarico è stato conferito a un'altra agenzia immobiliare quindi un metodo totalmente poco professionale. Se questo video ti è piaciuto metti un bel clic sulla voce mi piace, clicca anche sulla campanella per ricevere notifiche per i prossimi video che pubblicheremo e puoi comunque seguirci sui nostri canali social sul nostro sito www.lrimobiliarieroma.it Da Leonardo Raso un grosso in bocca al lupo e buon immobiliare! Grazie! 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 Grazie!